Continua la campagna di sensibilizzazione o no alla violenza, questa volta viene mostrata una violenza attraverso il mondo. Grazie a tutti! Legatelo alla pompa di Sentina, che soffra la fame per il resto del viaggio. Si tratta di sodomia. Ha commesso uno stupro. Merita la morte, lo sapete molto bene, comandante. Qualunque uomo che abusi di un ragazzo o cerchi di violentarlo, non merita di vivere in mezzo a noi. Impicciatelo all'albero maestro. Che sia di lezione per tutti. No, comandante, vi sopplico. Vi prego, perdonatemi. No, comandante. No, comandante. No, comandante. No, comandante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.